non c'è nulla da fare ragazzi Nicola quando subentra in corso squadra come queste le salva sempre sempre ne andremo a parlare in questo video prima di tutto like commenti in descrizione condizioni e campanellina cose importantissime ma che poi ci mettete poco per farle quindi fateli che vi costano poco vi con ci vuoi semplici clic e ci vuoi semplici cose da fare e rimarrete aggiornati sul canale a 3.6 quindi che aspettate fatelo se volete ditemi la vostra qui sotto nei commenti tifosi interisti veronesi laziali emiliani empolesi o empolitani chiamateli come vi pare romani e non la mia volatrice in questo video ditemi la vostra qua sotto allora verona inter partiamo da verona inter 2 a 2 gara che contava poco per entrambi perché il verone era già salvo l'inter ha già vinto lo scudetto e ha già alzato la coppia e ne esce fu una partita bella una partita vivace una partita intensa azioni da una parte e dall'altra la sblocca Arnatovic al decimo che oggi è stato il principale protagonista con una difesa del verona da ripetere che chi regala il pallone lui tira fa 1 a 0 però il verona con due occasioni nitide poi abbiamo avuto anche un'altra per il 3-1 che ha spiegato Nozlin servito da un cioccolatino di Slusov la mette dentro Suslov imbeccato da Nozli sembra da un cioccolatino perfetto 2 a 1 e poi al 45esimo più uno Turam serve Arnatovic tiro da furiare meraviglioso 2 a 2 nel secondo tempo partita simile al primo vivace azioni da una parte e dall'altra ma si conclude così pareggio che è inutile perché come detto il verona era già salvo l'inter era già capito vitale è uscita pure una bella gara vivace e l'inter chiude prima a 94 punti il verona 13esimo a 38 punti per quanto riguarda invece Lazio Sassuolo 1 a 1 anche qui gara inutile gara inutile perché la Lazio era già praticamente qualificata per una competizione europea però bisogna stabilire ancora quale bisogna stabilire ancora quale perché se la Fiorentina dovesse vincere la conference tre ne vanno in Europa League ovvero sesta settima e ottava se la Fiorentina non dovesse vincere la conference sesta settima vanno in Europa League l'ottava gioca la conference ovvero la Viola e la nonna non va in Conference League mentre nel caso la Viola vincesse la Conference League tre vanno in Europa League e la nonna va in Conference League ecco un po' stabilito il tutto anche qui ne esce una gara bella vivace bella intensa e Zarcani su punizione si dimostra come solito specialista segnando 1 a 0 poi vi dite se al 66esimo fa l'1 a 1 poi abbiamo Empoli-Roma Empoli-Roma è una gara dove l'Empoli nel primo tempo ha giocato al pari della Roma ha giocato al pari della Roma e tra il vantaggio col gol dell'1 a 0 Giasi serve cancellieri che tira Dante a svilare e fa 1 a 0 20esimo gol annullato a Cristante rimbalto campionese a piedi tiro gol annullato per fuor gioco giustissimo che si vedeva che c'era poi 45esimo più 1 Awar passaggio aggilinga tiro gol in guai all'Empoli nel secondo tempo l'Empoli domina 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 che la Roma era già in vacanza ormai ragazzi ha detto ha saldato tutto era già in vacanza già assicurare il posto di Ravalik non contava più niente per loro ultimo minuto e Nicola fa l'impresa fa un'altra impresa Nicola salva i suoi incredibile incredibile solo applausi per Nicola quando Nicola subentra in queste squadre a stagione in corso te le salva tutte clamoroso allenatore clamoroso dunque ragazzi questa è la mia opinione di Empoli Roma 2 a 1 Lazio 2 a 1 Verona Inter 2 a 2 se volete ditemi la vostra risolta di commento lasciatele commentazioni con la visione campanellina cose importanti sia ma che voi ci mettete poco per farle quindi fateli che vi passano poco con ciò semplici clic c'è un semplice cosa da fare rimanete ragionate il canale rispettate fatelo io la mia una di rispettare la vostra consulto bella